Speed è offerto da Isol Casa Italia De Pura Lasersoft Lo Zodiaco Frontemare Locatop Misano World Circuit Osteria La Cappannina e La Tramonteria Qui si sana Ristorante La K SGR Luce e Gas Rose and Crown SGR Luce e Gas SGR Luce e Gas SGR Luce e Gas SGR Luce e Gas Buonasera, serata calda in questo primo martedì di Speed Agostiano, primo e ultimo perché poi di fatto andremo a chiudere questo mese particolare spessato da quel minimo di vacanza necessaria con il 27 agosto all'indomani della Minardi Day, ottava edizione, quindi già tanti preparativi, tanta attesa, emozioni, tensioni e protagonisti certi e poi la domenica con il Gran Premio d'Olanda, quella Gran Premio di Zatward che farà ripartire la Formula 1 in vacanza ormai da una settimana dopo la 14esima prova iridata in quel di Spa, però il mondiale del motorsport si è mosso, è ripartita la MotoGP, è ripartita con una doppietta fantastica di Enea Bastianini, un alfiere della nostra romagnolità sfortunatissimo nell'anno passato, oggi alle ultime gare, in queste prossime dieci gare stagionali con la divisa ufficiale per quanto concerne il brand Ducati perché poi diventerà la prima guida di KTM, ma ne parleremo nel corso della puntata che è ricca, ricchissima con quattro ospiti che noi andremo a inseguire con i collegamenti vari che possono permetterci di parlare prima di quattro ruote e poi delle due ruote protagoniste nella weekend alle nostre spalle. Partiamo con ordine, c'è un amico splendido come Carineria, disponibilità e competenza come Mario Donnini fra gli artefici di Autosprint che ci aveva invitato a seguire con molta attenzione il numero di questa settimana, aveva giocato un po' anche alla sorpresa delle foto della prima pagina perché effettivamente non solo è il settimanale storico del motosport ma anche spesso e volentieri è la testata che anticipa notizie devastanti in senso positivo, costruttivo, destinate a cambiare comunque i giochi. Mario dovrebbe essere collegato con noi, io lo vedo già, puntualissimo come sempre, per lui più di noi, pronto a commentare quello che è il numero che tu, sul quale è un po' anche così giocato, è scherzato, su Facebook ma che quando io ho visto stamattina in edicola ho detto cavolo però, vedi? E ti dirò che un amico comune che io e te abbiamo, che è il presidente dell'autonomo Giancarlo Minardi che troveremo verso fine agosto e dove tu sarai protagonista anche a livello di sala stampa, l'aveva anticipato e me lo aveva detto senza mezzi termini. Parlando della possibilità, perché andiamo nella nome, Adrian Newey, l'uomo che ha costruito, che ha gestito la tecnologia, l'aerodinamica della vettura forse più vincente, soprattutto con i distacchi più importanti degli ultimi anni, in Red Bull con Max Verstappen. Mi aveva detto Giancarlo Minardi non credere che sia così sicuro che vada in Ferrari perché io penso che possa invece andare. In Aston Martin l'aveva motivato con una caratteristica del personaggio di Newey che ama far diventare vincenti situazioni che partono dal basso, fra virgolette, e che gestisce completamente. Adesso io vorrei che Mario Donnini che è stato così bravo a darci questa news importantissima, perché si parla dal 26, quindi di fatto quando ci saranno tutte le nuove monoposto, cosa ne pensa, come è arrivata questa considerazione, quali sono le certezze che ha e qual è la sua sensazione in proiezione futura. La verdona di Alonso e Stroll può domattina diventare l'anticipo di un'alba, di una giornata vincente in Formula 1 come è stata la Red Bull per questi anni? Ciao Mario. Ciao, ciao, un caro saluto a tutti. Anzitutto la notizia va scritta ad Autosprint che ha una direzione. Abbiamo letto il pezzo di fondo dell'amico Andrea Cordovani. Ecco che va indirizzato evidentemente il riconoscimento per questo. Per quanto mi riguarda posso dire che si tratta di una notizia che è la più importante dell'anno, non direi neanche seconda a quella di Hamilton alla Ferrari, perché Hamilton alla Ferrari è un botto. Questa è la notizia di sostanza, perché Hamilton alla Ferrari se non avrà una macchina ipercompetitiva non riuscirà a esprimersi presumibilmente e quindi che abbia una macchina competitiva in questo momento non è certo. Quello che è certo è che sicuramente New Way farà e penserà una Ston Martin competitiva, perché New Way ne ha sbagliata soltanto una di macchine, cioè l'MP4 18 nel 2003, ma non è che la sbagliò perché andava piano, la sbagliò perché si rompeva e non ha mai fatto una macchina lenta in vita sua. Ha sempre fatto vetture al top che se la giocavano e molto spesso, 13 volte, che hanno vinto il mondiale piloti. Quindi siamo di fronte al più grande fuoriclassica, ha vinto il doppio di Hamilton, se vogliamo proprio, quando anche non si tratta di titoli omogenei che si possano confrontare, tuttavia si tratta comunque di numeri che spiegano non l'importanza dell'uno sull'altro, piuttosto direi quanto possa essere fondamentale in un settore Hamilton, ma soprattutto quanto possa esserlo anche New Way. Per questo averli tutti e due per la Ferrari sarebbe stato, direi non plus ultra, sarebbe stato quasi un invito alla leggenda. Adesso, a quanto pare, la leggenda ha preso due strade diverse e l'incontro tra i due immensi della Formula 1 sull'asfalto e sul tavolo a disegno, non dico sia rimandato, ma visto l'età dell'uno e dell'altro, probabilmente non sa da fare e mai si farà. Quello che si farà sarà l'incontro piuttosto tra New Way, e presumibilmente, attenzione, perché Stroll padre non ha finito qui di aprire le pieghe del portafogli, adesso sta guardando sempre di più a Max Verstappen, tentandolo, stavolta praticamente offrendogli una situazione all'interno della quale continua a stare con New Way, se vuole non lo so se può portare Marco, però di sicuro non porta Horner, quindi pensa che razza di proposta piacevole e allettante che si ritrova a Max Verstappen, evidentemente non pochi mesi, ma un anno intero per meditare, poco meno di un anno per meditarci e poi c'è anche questo, perché attenzione, potrebbe essere veramente solo la prima di una serie di mosse che a questo punto svuotano la Red Bull come un guscio di quelli che sono tutti contenuti più, direi, appetitosi e preziosi. Ad ogni buon conto ci ritroviamo con un panorama della Formula 1 totalmente rivoluzionato. Io non ho pubblicato la copertina in anteprima come faccio di solito la domenica sera, perché questo significava regalare a tutti la notizia quando invece ce la volevamo godere proprio in edicola al martedì, quindi per una volta se permettete e penso che permetterete volentieri il cartaceo si è preso una bella rivincita sull'elettronico e sia per motivi generazionali che per filosofia che per voglia di tifare per la carta ne sono, ecco questo a nome del mio direttore, a nome della testata, sono convinto di interpretare anche la loro volontà, ne siamo profondamente felici. Guarda, non puoi trovare che solidarietà da parte mia per questioni anagrafiche di età, di modo di vedere quello che è stata ed è la nostra professione con un fascino particolare alle pagine sfogliate con tanto desiderio, tanta adrenalina ogni martedì mattina dagli anni 76 quando andavi alla prima edicola a Bologna andando a lezione in autostrada, credo che sia un discorso che ti hanno fatto tanti amici come ti sto facendo io in questo momento qui. Una notizia come detto tu che ha una sostanza perché cambia lo scenario, giustissimo il tuo confronto con Hamilton che è comunque dipendente dalla Ferrari, cioè Hamilton sarà protagonista sicuramente fra i primissimi nel momento in cui la macchina è vincente perché tra l'altro è anche un po' se vogliamo una sua caratteristica dove sente ancora l'odore del sangue da aggredire si trasforma in quel leone vincente che è, ma se deve fare le corse per andare a vincere il trofeo della, che ne so, così del gelatino di provincia ecco che lascia andare avanti gli altri perché lui di suo ha già dimostrato abbondantemente. Vado sempre nella lettura in proiezione, ti chiedo la figura di Cardile come si va ad inserire, ti chiedo il biegno che manca, cioè c'è un anno di attesa, è l'anno 2025, che sarà un anno di Fernando all'infori che Fernando non decida lui altre soluzioni per se stesso perché lui comunque il contratto ce l'ha, di fatto sarebbe un fuoriclasse che si prepara a lasciare il posto ad un altro fuoriclasse, forse uno dei più grandi degli ultimi dieci anni che è Verstappen, con il giovane Stroll che ovviamente può beneficiare della sicurezza economica di papà, sta cercando nel tempo di metterci anche qualcosina in più, bisogna dire la verità, ogni tanto fa anche qualche buona prestazione da pilota per andare alla ricerca di quello che potrebbe essere un po' clamoroso perché pensare ad un Aston Martin campione del mondo fa un certo effetto se pensiamo che in questo momento nelle quattro protagoniste abbiamo Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, cioè tutti i brand che hanno già vinto il titolo mondiale e anche in maniera ripetuta. Quindi un mondo che è in trasformazione. Ti faccio una domanda provocatoria, la Nui dell'ultima generazione ha realizzato, prodotto una vettura sofisticata al massimo, con dei problemi importanti di surriscaldamento, con un indirizzo non copiabile dagli altri team che erano orientati a seguire la Red Bull del 23. Resterà sempre il numero uno come genio o passano gli anni anche per i geni? Io voglio darti una risposta molto chiara. Io sono convinto che la Red Bull e la RB20 sia una macchina fantastica. Non lo fosse stata non avrebbe vinto le prime gare del campionato, tutte le prime gare. Ricordo che comunque è una vinte e otto. E otto sono tante, no? Sette. Se mi sbaglio di una. Comunque sette sono tante. Sette di mazza, sette degli altri sulle quattordici. Tutti gli altri ne hanno vinta praticamente una ciascuno a parte Hamilton, no? E questa è una chiave importante che fa capire come c'è una maggioranza di vittorie polarizzata su un singolo pilota, una singola macchina che non può essere sbagliata. La macchina è giusta, è quella che vincerà il mondiale piloti e se non vincerà il mondiale costruttore è per un motivo molto semplice. Da Miami in poi, Adrian Nui è andato via e è andato via lasciando esclusivamente il telecomando ma non il libretto delle istruzioni dell'RB20. Quindi loro possono utilizzarla, possono gestirla, possono cambiarla ma non sanno assolutamente come sfruttarla tanto quanto lo sa il suo creatore. E questa è la chiave di tutto. Cioè, il genio di New Way senza New Way è poca cosa. Se non c'è lui che utilizza, metta a punto, fa sintonia fine perché la grandezza di New Way è quella soprattutto di essere un genio nella fase dinamica di crescita della vettura. Cioè, se tu hai New Way che ti fa una macchina e te la spedisce via Amazon ma non è lì con te al muretto la macchina di New Way non ci fa niente perché non la sai gestire e non la sai far crescere. Se lui è lì e te la mette a posto, te la fa crescere e te la fa evolvere ti ritrovi la macchina che segna lo stato dell'arte in Formula 1. E questa è la chiave di tutto. Quando lui se n'è andato ha lasciato l'RB nei guai perché fanno una fatica bestia a rimetterla a posto tutti i venerdì e quando ci riescono e non ci riescono prima del sabato allora le cose vanno abbastanza bene per il Verstappen se no perde le staffe, si arrabbia e naviga lottando in quinta posizione. Questa è la chiave. E io credo che... Ecco, voglio concludere il discorso di nuovo dicendo mentre pensando a Chapman ci vengono in mente il motore portante della 25, della Lotus 25 ci viene in mente il pilota che se ne sta sdraiato come Jim Clark ovvero la macchina a cuneo, i freni outboard della Lotus 72 ci viene in mente l'effetto suolo insomma Chapman fu l'uomo delle mille soluzioni che hanno segnato la storia dell'automobilismo giuste o sbagliate, venute bene o venute male il doppio telaio dell'88 cioè se pensiamo a New Way non viene in mente una soluzione in particolare che sia visualmente dirompente sono tutte cose di piccola lavorazione di messa a punto cose invisibili per esempio il soffiaggio negli scarichi che ha fatto vincere per quattro anni la Red Bull cioè è una cosa che si spiega a parole quindi l'utilizzo aerodinamico degli scarichi praticamente però di fatto non è raffigurabile in maniera chiara cioè voglio dire New Way è stato l'uomo dell'invisibile delle piccole cose ed è l'uomo della crescita Forghieri e Chapman e Murray quindi tutti gli altri geni sono sintetizzabili con mirabili invenzioni che sono anche palesi quindi questo genio nascosto questo genio delle piccole cose questo genio Leonardo da Vinci dell'invisibile rappresenta in questo anche un che di magico e di alchemico il suo ruolo e io credo che da questo punto di vista posso solo fare i complimenti a Aston Martin che se l'è aggiudicato perché da una parte anzitutto è vero che non va alla Ferrari questa è una brutta notizia la bella notizia è che non smette la bella notizia è che a 66 anni continua e avrà ancora un capitolo minimo di 4 anni vi assicuro ben retribuito non va al lavoro soltanto per passione però lo farà molto probabilmente scrivendo altri capitoli magici e presumibilmente invisibili a livello di dimostrazione visuale ma nello stesso tempo anche palpabili dal punto di vista del successo però stavolta seppiati e virati in verde Allora io ti faccio una domanda perché da una parte hai sottolineato tu la bravura di Strolla io ti chiedo perché no in Ferrari perché no da Toto Wolffa perché no dall'ingegner Stella che fra l'altro ricordiamo appena ha rinnovato il suo contratto meritatissimo come team principal perché oggi è il progettista della vettura migliore probabilmente o perlomeno non dico che migliore ma perlomeno non è più inferiore alla Red Bull come è stata palesemente fino a fine dell'anno scorso perché questi team che sappiamo hanno una storicità importante sicuramente più della Stone Martin una budget che non è sicuramente inferiore a quello della Stone Martin e hanno bisogno di trovare la vittoria perché comunque è da un po' che i titoli mondiali a casa non ne portano perché ce l'ha fatta Strolla perché non ce l'hanno fatta loro ma è chiaro che qui entriamo in una zona caliginosa per certi versi quindi andare a spiegare le trattative è sempre e soprattutto le trattative riuscite è un conto no proprio in dettaglio ti chiedo la tua sensazione è a pelle tac 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 no ma io ho più che sensazioni posso avere anche delle certezze però voglio dire sono delle certezze che vanno per certi versi indicizzate quindi sto dicendo cose che non sono vere al mille per mille perché ho assistito però ho una buona approssimazione di vero in quello che dico la trattativa ovviamente tra Ferrari e Nui c'è stata è andata avanti posso dire che non c'erano problemi dal punto di vista economico cioè non era una Ferrari povera quella che New Way aborriva non è questa la spiegazione sarebbe dire una grande cavolata c'erano abbastanza soldi per pagarlo e lui non faceva problemi di carattere veramente economico il punto su cui tutto quanto si è arenato era un altro era quello della capacità di inserimento amministrativo all'interno di un organigramma e di un sistema mantenendo un'autonomia ovviamente intellettuale ma anche operativa cioè quanta gente poteva portare con sé quanto sarebbe stato autonomo quanto sarebbe stato indipendente quanto lui sarebbe stato il volante di tutta la questione lo sterzo e non sterzato da altri anche una difficoltà a trovare l'equilibrio dialettico con Vassell ma diciamo che anche questo perché no cioè anche questo ma non solo questo ok cioè probabilmente non andiamo con Fred che è l'artefice del fallimento della trattativa non sarebbe giusto no 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 ma non credo che il problema non era che Vassell contro New Way il problema era che New Way in Ferrari non sarebbe stato il solito direttore tecnico la metà di Binotto quando Binotto faceva sia il team principal che il direttore tecnico la volontà di Adrian New Way evidentemente aggiungo conoscendo la Ferrari era quella di andare lì non per fare l'ingranaggio nobile di un imbenso meccanismo ma a sua volta un meccanismo nel meccanismo ok e questo non gli è stato non ha avuto abbastanza garanzie a che fosse possibile farlo e quindi ha preferito e quindi ha preferito evidentemente cambiare tavolo da gioco e dirigersi laddove invece questo tipo di autonomia e questo tipo di diciamo capacità di non ingerenza altrui gli faceva particolarmente più gioco gli dava più tranquillità operativa e quindi questo credo che sia questa la spiegazione quindi non è che ha vinto quello che ha sento dire ah ma coi soldi stroll no non è quello chiunque va a caccia di New Way non è che ci va con due bondi evidentemente sono molte le squadre che possono permettersi di pagare New Way in questo momento in Formula 1 non moltissime ma però almeno 5 diciamo almeno 5 ci possono ci possono essere beh sì considerando che tra l'altro manco rientra tra il budget cap e l'ingaggio di un direttore tecnic poi insomma lui fa parte anche se mi permetti di una tipologia di tecnici all'interno di questa tipologia è l'unico esemplare perché non è che c'è diciamo più in New Way o più in altri sappiamo il valore che ha ma basta vedere l'attenzione che a livello mediatico gli si dà per confermare quanto lui sia il vero fenomeno oggi fuori dall'abitacolo che regna in Formula 1 senti archiviamo per un attimo il discorso della collocazione 2026 di New Way e quindi come dicevi tu giustamente siamo contenti di sapere che perlomeno non smette perché da lui abbiamo sempre assistito a opere tecniche importanti quindi che ci fanno divertire andiamo a fare per un attimo una valutazione da parte tua di quello che c'è dal dopo spa in avanti 10 gran premi li abbiamo visti ripetiamo 7 vittorie di Max contro gli avversari delle altre 3 squadre che hanno vinto 7 gare una per ciascuno ha raddoppiato grazie all'errore fatto in Mercedes Hamilton e non Russell l'unica nota stonata manca nelle prime 4 squadre la vittoria di Perez che invece si è un po' fra virgolette dicono salvato il posto all'ultima gara con una gara belga un po' più decorosa dopo mesi e mesi di distrazioni di figure da desaparecido da non pilota e quindi c'è una parità di vittorie un uomo contro tutti gli altri ti chiedo se ti aspettavi a febbraio dopo i test in Bahrain che a metà stagione anche se mancano più gare cioè nel senso ne mancano 10-14 le abbiamo già viste se ti aspettavi una Red Bull non così strepitosa come nell'anno passato e non così avilente nei distacchi inferti agli avversari se la sono giocata direi benino un po' tutti cioè c'è stato un discreto una discreta ripresa di competitività e di stacchi sono calati di tanto ma gli altri sono cresciuti però è anche vero che è soprattutto la Red Bull che è calata cioè nessuno poteva immaginare io non ho mai sentito né letto né preconizzato né visto preconizzare qualcuno che la Red Bull sarebbe calata dopo Miami anzi eravamo tutti in maggioranza bulgara all'unanimità oramai già a pensare all'anno successivo dicendo però anche l'anno successivo visto che cambia poco da quest'anno perché la macchina era stessa solo che verrà evoluta visto che è l'ultimo anno di un ciclo tecnico iniziato nel 2022 tutti pensavamo che oramai era murato quest'anno eppure l'anno dopo quindi nessuno lo immaginava poi sono arrivati i primi colpi di scena Niuwe se n'è andato se n'è andato a metà stagione rompendo il contratto all'improvviso a Miami ha detto ciao ciao a tutti è cominciata la ridda di ipotesi per capire dove potesse andare ma soprattutto ha cominciato a andar piano la macchina ha cominciato andar piano è un eufemismo ha cominciato ad essere nervosa ingestibile già aveva dato qualche segnale di minore affidabilità rispetto alla precedente ma poi non era la minore affidabilità il problema è stato che poi era difficile da mettere a punto e non c'era più l'uomo che era capace di domarla quindi è un puro sangue che non la doma più nessuno e quindi va più piano degli altri anche se è un puro sangue e anche se ha forse il miglior pilota ancora dell'otto però quattro campioni senza vincere sono già un segnale importante ti chiedo questo Mario quattro team la Red Bull che cala vistosamente come hai sottolineato tu nessuno l'avrebbe immaginato ma la realtà è questa nel momento che cala la Red Bull in maniera importante viene a mancare la Ferrari che tutti speravano fosse lì pronta ad azzannare la preda qualora venisse lasciato a qualche cosa a disposizione chi ha lavorato meglio secondo te fra McLaren e Mercedes perché in modo diverso tutti e due stanno dimostrando che sono pronte forse da una parte manca l'esperienza del campione perché Norris ha dimostrato che è ancora un po' cerbo di qua probabilmente il valore della macchina è inferiore a quello della McLaren cioè Mercedes un po' meno performante di McLaren come vettura sei d'accordo con questa vettura? Sì 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 sono d'accordo io la spiegherei così dal punto di vista del pezzo di ferro la miglior macchina del mondiale è da poco dopo dell'inizio diciamo da quando Nuve stava per partire dal pre Miami è la McLaren è la miglior macchina giudicata come pezzo di ferro poi però non è che in Formula 1 vince il miglior pezzo di ferro che c'è perché ci vuole la gestione della squadra e ci vuole un pilota che la porta da questo punto di vista ecco che arriva dal Canada in poi come prestazioni la Mercedes e la Mercedes non è migliore della McLaren ma è complessivamente gestita da piloti più forti e da una squadra più vincente più vincente perché è la squadra che ha avuto la striscia vincente appunto dal 2014 al 2021 quindi la più lunga dell'intera storia della Formula 1 e soprattutto perché ha anche due piloti che rispetto ai suoi sono meno acerbi ovviamente Hamilton e Russell come coppia non dico e non voglio stare qui a proclamare che sono i più forti di tutti però non temono assolutamente nessuno mentre Norris per fisime proprie che per un mancato sviluppo caratteriale soffre ancora la partenza delle prime curve Piastri è ancora troppo acerbo benché abbia un talento fenomenale detto questo la gestione dinamica del pezzo di ferro è migliore nella Mercedes e il pezzo di ferro sarebbe migliore nella McLaren che però da Miami a oggi ha vinto solo due gare quando ne poteva vincere sei la Mercedes di fatto poteva solo vincere due e mezzo e ne vinte tre questo spiega la differenza di qualità di squadra e di materiale umano che hanno a disposizione Benissimo adesso io Mario aggiungerei se non ti dispiace per questa ultima parte di collegamento con te anche un giovane pilota romagnolo che noi stiamo seguendo con tanto affetto viene dal Nürburgring ma soprattutto alcuni test importanti facciamo due battute assieme anche a te e poi dopo ti diamo la buona vacanza nel ringraziarti e finiamo con il buon Andrea Frassinetti vediamo se riusciamo a vederlo in una doppia finestra eccolo qua eccolo qua guarda come sono stati bravi i nostri registi che fanno vedere da una parte l'anzianotto conduttore e poi abbiamo il giovane campioncino e un saggio e maturo giornalista esperto a 360 gradi ciao Andrea ben arrivato guarda sopra di te a livello solo di schermo c'è il grande Mario Donnini al quale con te presente chiedo quale valore oggi deve essere considerato dai giovani piloti l'opportunità di diventare professionista nelle ruote coperte dimenticandosi che per forza si debba arrivare nei venti della Formula 1 Mario ha cambiato il mondo i giovani sono tanti sono bravi ma sono un po' più scaffati possiamo dire che stanno dimostrando di avere anche tanto sale in zucca nel saper fare le scelte giuste ai momenti giusti e non solo quando sono scappati buoi dalla stalla si può fare questo discorso qui Mario si unito al fatto che oramai comandano le academy e quindi se sei nel giro che hai buone conoscenze o buone politiche ti infili in un academy alcuni di quelli che si infilano sono veramente bravi altri hanno qualche spinta come sempre accade aggiungo purtroppo al mondo e quelli che non hanno grosse spinte devono capire che nella maggior parte dei casi non c'è la possibilità di reperire da soli un budget per correre in buono posto quindi i ragazzi che vogliono ambire a fare professionisti invece che partire al massacro piantando un chiodo perché dopo due gare finisce il budget preferiscono fare un discorso completamente diverso abbandonano i sogni di gloria in buono posto e si dedicano fin dalla giovane età alle vetture a ruote coperte perché lì sì che ci sono case che ti fanno correre che ti guardano, ti prendono cominci magari nei monomarca cominci a metterti in evidenza come ha fatto il nostro simpatico amico andando subito velocissimo nel giro secco e poi cominciando ad avere anche dei risultati belli e interessanti a fine gara e quindi se parlo di Drudi Junior parlo di Patrese Junior parlo di figli ben consigliati da padri esperti ed importanti a loro modo quindi se l'hanno fatto loro aprendo veramente una miniera un filone, una direzione interessante sono contento che lo facciano anche dei ragazzi come Frassinetti quindi a mio avviso non è che loro la vedano in maniera diversa dagli altri è che è cambiato il mondo un monoposto adesso se non hai una corporation che ti aiuta una volta bastava lo sponsor adesso ci vuole proprio una corporation un'academy in marchio se non hai tutto questo il professionista può farlo solo a ruote coperte quindi è una scelta diversa intelligente e attuale Allora, così come Andrea attentissimo alle tue parole le condivide perché le sta portando avanti con grande professionalità però siamo tutti molto attenti Andrea per primo alla strada che sta percorrendo con umiltà e intelligenza Chimi Antonelli e Autosprint di questa settimana in due articoli diversi uno che analizza con la tua firma se non sbaglio tutto quello che ha saputo fare anche perché abbiamo la tendenza da italiani superficiali tante volte ad esagerare nelle critiche ad essere poco preparati su quello che sono invece le situazioni e le realtà e lo stesso Dario Lucchese collega che noi consideriamo salutiamo con affetto che poi addirittura fa un confronto impietoso a favore di Chimi di quello che sono i risultati col compagno di squadra già in Formula 1 già a punti come Berman Allora, mi è piaciuto il fatto Mario e Andrea penso che stia attentissimo a queste cose qui che tu l'hai detto chiara e tondo bambini smettiamola di fare gli stupidi cioè che come ci permettiamo di fare delle osservazioni su quello che fino adesso ha fatto Antonelli quando è uno dei pochi talenti italiani naturali e gestito con grande intelligenza anche alle spalle non solo perché c'è un total wolf di cui conosciamo benissimo le qualità ma anche per la famiglia equilibrata che non dà spazio che non lascia trasparire esaltazioni delusioni gli atteggiamenti divistici che Chimi ha dimostrato di non conoscere assolutamente ma questo dove ha messo il piede destro ha vinto in tutte le categorie dal kart alla Formula 2 poi vogliamo dire che quest'anno difficilmente vincerà il titolo forse sì ma vogliamo anche dire che per mezza stagione ha avuto una macchina che era un po' in difficoltà vogliamo dire che il primo anno saltando la Formula 3 diventa ancora molto più difficile per lui vogliamo ricordare che ha bastonato i tempi di piloti già in Formula 1 in ogni testa che Mercedes si le ha fatto fare cioè tu hai fatto secondo me un articolo di diritto civile sacrosanto che evidenzia le qualità di un campioncino che ci teniamo stretti dimmi se ho letto bene il taglio che volevi raggiungere tu grazie ti posso dire soltanto grazie però ti suggerisco di dare spazio al nostro giovane amico perché sì ma lui lo teniamo lì che è giovane a tempo dammi il tuo commento finale che poi ti salutiamo Mario proprio su Chimi alla luce di questa finestra sui giovani ti posso anticipare che Andrea è reduce non solo da un Nulburgrin sfortunato perché quando corri in due se il compagno di squadra fa danni tu rimani a piedi ma da dei testi importantissimi in GT3 con sospiri che lo porteranno a giocarsi il GT3 in una sprint al Mugello e a Monza cose che così d'amblè difficilmente ti fanno fare meno che tu non abbia dei numeri a te Mario sì quindi prendo atto di questo tipo di evoluzioni con tutto il piacere che si può provare vedere un ragazzo che ha talento continuare passo dopo passo un percorso ascensionale nello stesso tempo io ho detto grazie per le due parole per il mio pezzo su autosprint io sostengo questo per me è stata l'occasione ed è per ribadire un concetto abbastanza chiaro nello stesso tempo anche per certi versi credo da ascoltare ecco perché io dico non c'è peggior italiano anti-italiano dell'italiano rosicone cioè noi dobbiamo cominciare ad avere un atteggiamento carino nei confronti dei giovani compreso il presente evidentemente qui con noi che ci stanno provando perché ci stanno provando con dei numeri ci stanno provando con del talento e quindi dobbiamo smettere di fare questa sorta sembra quasi che uno è esperto perché sminuisce riesce a essere disfattista perché ne capisce molto spesso i grandi disfattisti sono semplicemente dei coglioni e io credo che in Italia c'è questo sport nazionale sotto il pelo dell'acqua di cercare di sminuire ciò che stanno facendo dei giovani coraggiosi e io preferisco non solo crederci ma anche aprire del credito cioè mi sembra la cosa giusta Mario se non li sosteniamo soprattutto dove vediamo serietà e applicazione è inutile che stiamo a parlare Mario io ti ringrazio ti auguro buone vacanze ci vediamo sabato 24 ad una certa ora in sala stampa al Minari Day e poi ci risentiamo dopo Zantwoord grazie della tua disponibilità ciao Mario ringraziamo e buon caldo frasineti ciao ciao benissimo che adesso rimane con noi mentre lasciamo l'amico Mario di Autosprint ciao Andrea allora intanto hai sentito quello che diceva un esperto perché non è sufficiente essere bravi con la pena scrivere ma devi conoscere la materia e si impara andando a vedere si impara vedendo correre i giovani vedendo correre i campioni quando un giornalista esperto ti sottolinea la positività di quello che stai facendo ti deve servire da sprone da spinta da gioia da soddisfazione sono stato qualche giorno fa a trovare il tutto in principio all'incenzo Sospiri e abbiamo chiacchierato di tutto abbiamo visto con grande piacere la Factory abbiamo visto le vetture che sono quelle del GT3 abbiamo visto le vetture che sono quelle che tu usi abitualmente nel Super Trofeo e abbiamo chiacchierato un po' di tutto adesso la regia mi manda in onda una clip che ti riguarda Ascolta Vincenzo una curiosità ma noi diciamo nel motosport romagnolo siamo anche molto interessati ad un giovane che stai così svezzando con tanta attenzione e che ha dimostrato comunque di avere delle qualità perché il professionismo non è soltanto Formula 1 ma è anche spesso ruote coperti che vuol dire fare il pilota senza valigia ma pagato parliamo di Andrea Frassinetti quest'anno le tue corde nella tua struttura sta facendo bene ha già fatto quattro prove del Super Trofeo ma soprattutto con riscontri importanti cronometrici anche un test con GT3 è pronto a fare due sprinta fra agosto e ottobre Mugello e Monza fammi un quadro di questo ragazzo che ci piace tanto ma mi è sempre piaciuto Andrea fino a quando faceva le formule con noi ci sta trovando molto bene noi troviamo molto bene con lui è un ragazzo molto molto veloce con le ottime doti sui qualità dobbiamo logicamente lasciargli il tempo di crescere e di crescere bene non mettergli in pressione il ragazzo risponde sempre molto bene alle cose che noi gli chiediamo di velocità è molto molto veloce quindi secondo me se gli diamo un po' più di tempo lo facciamo stare un po' più calmo e dargli il tempo di crescere non ci dovrebbe essere problemi il ragazzo è la velocità e la capacità per arrivare grazie Vincenzo in bocca al lupo per la struttura bellissima che ci hai presentato oggi crepi il lupo un saluto a tutti quanti questo Vincenzo Sospiri che dall'alto dei suoi 58 anni tante gare a tutti i livelli in tutte le categorie ci dice chiaramente senza mezzi termini Fressinetti va forte dobbiamo farlo crescere ma ci sono tutte le qualità perché possa arrivare all'obiettivo che ha allora io ti chiedo intanto in questa prima parte di stagione partendo dalla fine proprio da questo regalo fra virgolette che nasce da una situazione particolare quasi come se lo stesso team principal avesse avuto voglia di regalarti una soddisfazione dopo i disastri provocati dal tuo compagno di squadra al Nürburgring cosa di cui non possiamo far colpa a nessuno ma la morale è che tu sei stato una settimana in Germania per fare il turista e mettere il sedere sulla macchina per pochi giri nasce questa così idea vincente di farti fare un test con la GT3 partiamo da questa cosa qua come l'hai presa cosa ti aspettavi le differenze di macchine perché la differenza è grande sì sicuramente l'ho presa benissimo appena me l'ha detto Vincenzo sono esploso perché comunque il test in GT3 era il sogno che avevo da quando correvo nell'F4 quindi è stata un'emozione unica e più che altro tornare dal Nürburgring dopo una gara che è stata ovviamente purtroppo il mio compagno ha avuto degli incidenti io non ho potuto correre e tornare dalla Germania che hai subito un test in GT3 era non vedevo l'ora già dal primo giorno dei test della Lamborghini Super Trofeo non vedevo l'ora di arrivare a martedì a Cremona a girare con la GT3 che macchina è? è una macchina che subito in confronto con una Lamborghini Super Trofeo sembra un missile perché ha tanto più appoggio nelle curve veloci ha tanto più aerodinamica tanto più carico gomme diverse io mi sono trovato molto bene quindi più macchina più macchina agonistica più macchina da corsa più quello che piace a me perché io venendo dalla formula a me piace la velocità tanta velocità in curva quindi non vedevo l'ora ti sei trovato subito bene i tempi che non stiamo che raccontare però ti hanno visto subito molto vicino quasi da imbarazzare i piloti con un po' più di esperienza che erano con te adesso io ovviamente non mi non mi voglio mai lo dico io sì dai siamo andati bene i tempi erano buoni ovviamente io stavo spingendo perché dovevo provare anche la macchina magari adesso vedremo tutto alla gara a Mugello tu te l'aspettavi poi dopo di andare subito in gara ci speravo sì dai ci speravo sapevo che comunque mancava un posto al Mugello anche a Monza e allora dai visto che comunque sono andato bene un po' me l'aspettavo che rapporto hai con le due piste Mugello è una delle mie piste preferite anche in formula sono andato sempre forte Monza anche quindi diciamo allora problemi di trattamento alle piste nessuno problemi di trattamento alla macchina secondo te a cosa devi stare attento dovrò stare attento perché questa macchina soprattutto del setup che ho provato a Cremona che sarà quello uguale a per il Mugello è molto aggressiva come macchina io essendo abituato a uno super trofeo che è comunque tanto sottosterzo derivante anche dal fatto che è un pilota amatore a fianco passare da una G3 è comunque una macchina che è fatta per i pro e il mio compagno sarà anche lui un pro come me avendo molto sovrasterzo mi dovrò abituare subito nelle prove libere avrò pochi giri però cercherò di sfruttarli al massimo ma lì si può pensare già di fare bene o la differenza rispetto agli altri avversari del super trofeo qui è molto più nitida e l'esperienza fa molto più la differenza perché tu nel super trofeo che hai iniziato quest'anno a Imola la caratteristica più importante è che ti sei adattato subito sei andato subito forte e hai messo in difficoltà a versare i titolati puoi farlo anche in gt3 o devi stare fra virgolette un po' più umile un po' più basso cioè un po' più attento beh attento quando corri fai sempre fatica ad esserlo comunque quando cerchi di andare al limite attento basta un attimo basta un millesimo di seconda che ti parte la macchina e vai in ghiaia quindi io ovviamente non so non saprò cosa aspettarmi anche perché adesso io mi sto basando su un livello del support trofeo dove ci sono 50 passamacchine dove ci sono tante categorie io mi trovo a essere comunque sempre nella top ten nel gd3 spero anche lì di fare risultato di Imola non sarà facile ovviamente però noi ce la metteremo tutte come sempre quindi possiamo guardare dalla decima in posizione in su o dobbiamo guardare più indietro no no indietro non si guarda mai non si guarda indietro spera anche se sia stato altri problemi ascolta Andrea ti lasciamo andare io so che tu stai preparando un'estate da concentrazione attenzione allenamento fisico e mentale e questo per ragazzi sette anni che è in vacanza anche dallo studio è la conferma che il sacrificio non ti fa paura ti fa onore noi ti siamo vicini in bocca al lupo ci vediamo al Mugello grazie Andrea Frassinetti grazie a voi ciao salutiamo Andrea e poi ovviamente avremo modo e tempo di dedicare ancora attenzione perché lo seguiremo tutto l'anno andiamo in break pubblicitario e poi si salta dalle 4 alle 2 ruote torniamo subito eccoci qua per la seconda parte di speed di questo martedì 6 agosto vi ricordo dopo questa puntata che sarà replicata giovedì sera stessa ora essendo un po' più lunga non andiamo nell'uscita pre-teleggiornale delle 18 ma siamo sempre in onda verso le 23 23.10 come il martedì poi ci sarà la terza uscita del sabato sera dopodiché un po' di sosta di vacanza per riprendere intanto andare a migliorare studi sponsoring tutto quello la location tutto ciò che può servire per essere ancora più fra virgolette gradevoli per creare il giusto appeal con voi anche per il dopo estate perché si tornerà in onda martedì 27 agosto all'indomani dal ritorno della formula 1 e del minare di story day del 24 e 25 agosto adesso è il momento delle due ruote che se hanno fatto vacanza prima della formula 1 adesso ovviamente si sono ripresentati direi alla grandissima con un bellissimo weekend corsaiolo a sylveston il tempo buono tutto sommato per fortuna non i disastri che abbiamo visto a sylveston per la formula 1 una grandissima ducati ma soprattutto un grandissimo enea bastianini per quanto concerne la moto gp con chi possiamo parlarne dopo un po' di vacanza lo abbiamo lasciato sicuramente in mezzo alle onde della sua Liguria però ritroviamo in formissima Matteo Nunez eccolo qua la brosatura c'è tutta non so se ti sei divertito a 360 gradi caro amico mio bentornato ti ritrovo con tanto piacere siamo contenti di avere di nuovo il supporto di motorsport.com anche per le due ruote allora ti sei divertito nel tuo primo weekend di rientro al lavoro caro Matteo ciao Stefano sì sì dai è stato un bel weekend abbiamo ritrovato un grande bastianini ci voleva un buon un buon modo di ricominciare ecco una gara interessante tanti protagonisti importanti ci sono anche delle sfumature che fanno parte dell'analisi della motociclismo in generale la crisi dei piloti extra iberici italiani ormai sono solo queste due generazioni queste due nazioni a produrre importanti personaggi a Silverstone 75 anni di mondiale della federazione un unico pilota britannico in moto 2 sono tutti segnali che fanno capire che è una situazione che va gestita noi siamo fra i protagonisti comunque perché il tanto il brand la Ducati mette 5 moto una dietro l'altra ne mette 7 su 8 moto e peraltro l'unica che non è una Ducati è un'Aprilia quindi il che vuol dire che alla fine il brand italiano è quello che fa la differenza quando noi abbiamo vissuto adesso tu meno perché sei più giovane molto più giovane di me però se tu pensi agli anni in cui io e tuo padre abbiamo visto e assistito ai trionfi a seguire di Yamaha di Honda cioè dove per arrivare a pensare dove dove c'eravamo lasciati con gli albori nei tempi di Agostini e compagnia bella oggi oggi Ducati da anni sta dimostrando che la tecnologia made in in Borgo Panigale è la migliore in assoluto di tutti i piloti sono bravi sono tanti forse non c'è anzi caviamo il forse non c'è probabilmente il Valentino Rossi che ha segnato vent'anni di MotoGP non c'è neanche un Marquez poi ti chiederò se sei d'accordo con me che lo vedo lo vedo un po' in calo in calo come autostima forse sta un po' perdendo le stimate del campione in assoluto e paga tantissimo la differenza enorme fra Moto23 e Moto24 però abbiamo tanti giovani potenziali campioncini tanti piloti importanti che stanno rendendo interessante la MotoGP almeno io la vedo così non so se tu la pensi come me o se è la ricerca del nuovo focus su cui accentrare le tue attenzioni come come bravissimo giovane giornalista no no sono d'accordo il livello secondo me è molto alto giustamente hai dato merito alla Ducati perché oltre a dominare sta continuando a fare record perché quella di Silverstone è stata la settima tripletta consecutiva della casa di Borgo Panigale nessun marchio nella storia era mai riuscita a monopolizzare il podio per sette gare di fila la seconda volta nella storia che mette otto moto ai primi dieci posti dopo Saxe Ring dell'anno scorso dice molto dello strapotere che hanno in questo momento le moto di Borgo Panigale se gli vogliamo togliere qualcosa guarda forse tra le libre celebrative aveva le più brutte la più bella quella di Aprilia secondo me Aprilia Honda Yamaha erano stupende che erano legate ai 75 anni di moto mondiale giusto cioè quella era la regola diciamo la data storica da incorniciare beh diciamo che Ducati forse ha curato poco l'estetica ma in compenso ha messo ha messo in macchina dei piloti in forma ma probabilmente ci ha fatto vedere quanto avrebbe potuto fare senza l'anno disastrato del 2023 un pilota come Nea Bastianini che incarna il romagnolo campione del mondo in moto è assolutamente sì perché finalmente abbiamo rivisto il Bastianini del 2022 a Silverstone e ormai era abbastanza evidente che quest'anno il suo punto debole fosse la qualifica perché tante volte l'abbiamo visto magari partire dalla terza anche dalla quarta fila e poi riuscire ad andare magari a prendere il gradino più basso del podio o a chiudere quarto io sabato onestamente l'avevo scritto subito nel pezzo delle qualifiche attenzione a Bastianini perché se parte dalla prima fila per quello che ha dimostrato di saper fare nella seconda parte di gara quest'anno partendo da dietro può essere uno molto pericoloso fortunatamente mi ero sbilanciato ma ci avevo preso assolutamente sì ma non avevi considerato uno scivolone inadeguato al suo prestigio carisma e titolo di Pecco Bagnaia nella sprint sì anche se credo che comunque non sarebbe riuscito a battere Enea io credo che Pecco sarebbe però arrivato secondo nella sprint che avrebbe potuto guadagnare qualche punticino su Martin sabato invece che regalargliene 9 quindi è stato un errore abbastanza pesante anche se cosa è motivato secondo te ma non lo so forse si è fatto prendere dall'ansia di di dover per forza recuperare dopo quell'errore che ha fatto alla partenza che non è riuscito a disingaggiare l'abbassatore questa cosa gli ha fatto subito perdere delle posizioni perché secondo me non c'era motivo di aver fretta c'era ancora più di metà gara della sprint era attaccato c'era tutto il tempo per provare non dico a vincere ma almeno a salire sul podio purtroppo è così è molto o tutto o niente si può pensare e ti faccio una domanda che potrebbe sembrare stupida ma considerando il personaggio me la leggi tu lui veniva da quattro successi consecutivi anche abbastanza ravvicinati si può pensare che faccia parte di quei piloti tipo diesel che alla prima gara dopo un po' difficilmente subito al top come caratteristica sua o no ma ci potrebbe anche stare non lo escluderei categoricamente anche perché lui ci ha sempre abituato comunque di solito a dare il meglio di sé nella seconda parte della stagione piuttosto che non nella prima lui ha proprio bisogno di sentire si un tutt'uno con la moto per rendere al meglio sai stai 20 giorni senza correre anche solo la sensazione fisica anche solo la posizione la visuale che hai da sulla moto a di fianco alla moto già ti cambia psicologicamente non sei tutt'uno con la moto perché sei stato 20 giorni che non l'hai vissuta frequentata dominata gestita faccio per dire magari ecco lui è uno di quei piloti che quella cosa la paga per esempio poi non dimentichiamoci che sono stati anche 20 giorni impegnativi per pecco perché c'è stato in mezzo un VDV e si è sposato con la fidanzata domizia quindi non sono state esattamente vacanze per noi non si è certamente rilassato da dire non so come fare far sera ecco ha avuto sicuramente 20 giorni dove ha dovuto mettere dentro tutto quello che non è il correre il mondiale quindi ci sta anche quello e poi un'altra cosa che io noto in te e altri tuoi colleghi illustri come ha detto i lavori c'è sempre un certo tipo di fili in particolare dei piloti verso determinati circuiti guarda a caso Marquez con il Saxe Ring se non ricordo male quali sono le percentuali e il rapporto per esempio che pecco ha a Silverstone è una pista dove ha fatto bene Ducati è una pista dove ha fatto bene dove fa bene com'è la situazione in generale ma allora in realtà sì perché aveva vinto nel 22 e l'anno scorso ha perso la gara all'ultimo giro da Espargarò però era stato l'unica Ducati nelle prime 5 infatti è questo il dato che è impressionato del weekend che su una pista dove l'anno scorso c'era una Ducati sola nei primi 5 posti quest'anno ne hanno messe 8 nei primi 10 per far capire di quanto siano cresciuti e vuol dire che anche alla fine la tanto bistrattata GP23 probabilmente è migliorata rispetto alla passata stagione sì assolutamente sì guarda ci si sta affiancando con molto piacere un amico ospite che tu conosci bene e che spesso e volentieri è stato anche in dialogo con te che è il nostro opinionista Claudio Villa Moto 2000 chiamiamolo gruppo Yamaha amici del gruppo Yamaha Claudio spero di vederti adesso dovrebbero fare il solito lavoro i nostri tecnici e regia eccolo qua dall'alto della sua bellezza insieme all'amico Matteo io come come anzianotto che sono al di sopra delle parti per avere così questa parte di trasmissione dedicata ad uno scambio anche fra professionisti della comunicazione ma soprattutto persone che amano il motosport sei d'accordo con non so se hai avuto tempo Claudio di sentire le ultime battute di Matteo su quello che è stato un po' il discorso di Silverstone Silverstone patria ancora una volta di una Ducati straripante una Ducati migliorata rispetto all'anno scorso perché più macchine nelle prime dieci posizioni una 23 che ha fatto molto bene nonostante le differenze fra la moto 24 della casa di Borgo Padigale la tua sensazione avendo visto il weekend da Pulisat Televisivo tanto ciao ciao a tutti sì ho sentito in parte quello che avete detto per le difficoltà del collegamento che abbiamo avuto oggi perfetto nessun problema sì la superiorità manifestata qui a Silverstone è stata abbastanza disarmante perché abbiamo visto la KTM le ho viste in difficoltà a Costa non è più quello di prima più impante delle prime gare perciò aver messo tutte quelle moto nelle prime dieci posizioni è un dato significante allora hai fatto un'osservazione tecnica che è perfetta perché ho avuto la sensazione che Matteo annuisse da Costa è calato lui Matteo sono cresciuti gli altri è calata la KTM perché non sta facendo più fuoco e fiamme come i rucchi cessionali delle prime gare io penso che sia calata la KTM nel senso che la strada di sviluppo che hanno preso non ha dato i risultati che speravano loro sono stati i primi a introdurre il secondo pacchetto aerodinamico della stagione ma non gli ha fatto fare un minimo passo avanti mentre invece la Ducati e la Priglia continuano a migliorare direi che in questo momento la Priglia è in mezzo alle Ducati l'unica che ogni tanto qualcosa qualche zampata riesce a far vedere come la pole position di Espargaro Sabato io penso che più andiamo avanti più Vignales si pentirà di aver scelto di lasciare la Priglia per andarsene alla KTM onestamente quindi nel tour de force del mercato che abbiamo letto per tutti i mesi di giugno che ha creato anche così tante attese al punto quasi da aspettarsi il 25 ancora prima che si è finito il 24 Claudio la valutazione che ha fatto adesso Matteo sui vari cambi di Sellino Vignales da KTM da Aprilia va via va in KTM si troverà di fianco un Bastianini che in questo momento secondo me lo bastoni lunghi in largo come qualità cosa ne pensi? ma concordo perfettamente infatti lì ci saranno diversi pentimenti primo frattutto la Ducati che perde Martin e Bastianini che adesso sono in forte ascesa e Vignale si pentirà amaramente di aver lasciato una Priglia così in forma quando vede la KTM che adesso sta facendo un po' da gambero ultimamente nelle ultime gare perciò i pentimenti saranno molteplici pentimenti a proposito di questi mi hai ventilato chiacchierando io e te da amici come facciamo spesso fuori dall'aspetto televisivo di un qualche cosa che avrebbe condizionato un po' la scelta di Marquez io vorrei che tu se lo puoi dire lo ridicessi e chiedessi cosa ne pensa Matteo ma da quello che so lì so che i fratelli Marquez sono testimoni all'Audi in Spagna e Audi ha fatto pressione perché andasse Marquez nella squadra ufficiale e a quel punto lì sempre da quel che so Ducati ha dovuto inchinarsi a questa diciamo non dico imposizione ma scelta caldeggiata suggerimento caldeggiato Matteo secondo te è stata effettivamente la scelta migliore cioè Bagnaia Marquez la coppia migliore che Ducati poteva schierare o se guardiamo avanti se guardiamo anche le caratteristiche dei piloti che erano in balottaggio alla fine forse Marquez era quello meno indicato da prendere ma guarda adesso non so se è Audi nello specifico ma io credo sposo il discorso di Claudio che siano state soprattutto ragioni commerciali quelle che hanno spinto Mark Marquez nella squadra ufficiale al netto che parliamo sempre di un otto volte campione del mondo tutto quello che vuoi giustamente diciamo che lì hanno fatto una scelta di avere il Dream Team il ragionamento è abbiamo una moto talmente forte che quale che sia con uno di quei due lì il mondiale lo vinciamo e tra le righe l'ha detto mi pare non mi ricordo se da lì o tra dozi nel corso del weekend alla fine se per i prossimi due anni continuiamo ad essere così nel 27 chi se n'è andato via può anche tornare eccoci dalla serie non è un problema quindi alla fine il tempo c'è il tempo c'è tanto l'importante è che Ducati continua a vincere come brand a quel punto lì dopo pochi sarà in sella un problema che per la parte marketing aziendale diventa secondario la gara di domenica a livello televisivo vista da tutti e tre perché credo che nessuno dei tre fosse a Silverstone è stata bella divertente giusta nelle attese spettacolare o sono mancati troppo gli altri rispetto a Ducati e Matteo ma spettacolare poco perché insomma i due sorpassi principali sono avvenuti perché ha sbagliato quello che era davanti non perché lo ha passato quel che era dietro quindi è stata una gara molto tattica diciamo perché alla fine ha vinto che è riuscito a portare la gomma in condizioni migliori fino alla fine cosa di cui sappiamo Enea essere maestro però sì la Ducati è stata veramente troppo per tutti gli altri a renderla spettacolare ci ha pensato Digia che ha fatto una gran rimonta e una battaglia bellissima con Alex Marquez con tanto di gesto a un certo punto mettiti dietro e non rompermi più che andiamo a prendere quelli davanti che poteva essere sembrato un gesto come si direbbe in Romagna da sborone e invece poi alla fine era vero perché lui poi si è andato a prenderli quelli davanti assolutamente sì Claudio cosa ne pensi tu sia della gara in generale e anche della sottolineatura giustissima delle qualità di Digia che per me in questo momento è uno dei migliori piloti italiani che abbiamo sì infatti se ne è parlato poco della rimonta di Digia ma l'abbiamo vista e quel gesto lì è un gesto che si vede spesso si vedeva spesso in moto 3 perché facevano quei trenini lì e dice seguimi che io sono più veloce e andiamo a prendere quelli davanti o almeno non perdiamo questo distacco che abbiamo esatto Digia è stato il bello di questa gara assieme chiaramente a Bastianini che ha completato un weekend meraviglioso sentite per essere competitivi come Ducati e quindi potersi inserire non sporadicamente una gara all'anno ma stabilmente ad Aprilia può bastare il cambio ai piloti cioè arriveranno Martina e aiutami Matteo il secondo pilota sarà Bezzecchi e Bezzecchi altro che da risuscitare da così un po' rigenerare potrebbero bastare i due piloti al top delle loro qualità per mettersi a livello Ducati o secondo voi anche la macchina la moto stessa ha delle peculiarità che ancora Aprilia non ha raggiunto ma guarda io credo che già i due piloti gli faranno fare un saldo perché secondo me con tutto il rispetto alex Spargaro e Vignales non valgono Martina e Bezzecchi soprattutto uno dei grossi limiti dei due piloti dell'Aprilia soprattutto di Vignales e che tendono a fidarsi un po' dell'aerodinamica su una moto che invece ha spesso dei concetti molto interessanti e che è nata molto per funzionare con l'aerodinamica in questo credo che avere invece due piloti che sono cresciuti a pane aerodinamica come Martin e Bezzecchi essendo stati sempre in orbita Ducati potrà aiutarli molto a far crescere la moto quindi ti aspetti che l'anno prossimo possano giocarsi non dico alla pari ma insomma che manchi veramente il capello tra Ducati ed Aprilia come capacità prestazionale dei piloti e dietro diciamo crescita tecnica da parte del pool di ingegneri Claudio come la vedi? la vedo così anch'io per me è una coppiata felicissima perché sono due piloti giovani veloci costanti cosa che manca proprio ai due piloti Aprilia ormai Vinales lo sappiamo negli anni con Suzuki Yamaha è sempre stata un'alternanza di risultati così non mi ha sorpreso l'andamento di questa stagione invece un Martin così in forma è un Bezzecchi che sono sicuro che nel posto giusto ritorna quello di l'anno scorso è una coppiata esplosiva è molto 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 vicina a candidarsi per il titolo volevo chiedere a Matteo se oggi alla luce di quello che stiamo vedendo la scelta di Bezzecchi poteva essere alternata con un Digia quindi una coppia che vedesse di Gian Antonio come secondo pilota perché non è scritto da nessuna parte che Bezzecchi rientri e torni ad essere quello che era in questo momento è l'ombra di se stesso ma guarda ci poteva stare però diciamo che anche Digia alla fine casca abbastanza in piedi perché l'anno prossimo moto ufficiale giusto? esatto tra i Ducati GP25 la moto identica a quella di Pecco Bagnaia e Mark Marquez ce l'avrà Fabio di Gian Antonio quindi direi che era difficile chiedere di più e se come l'abbiamo detto più volte 12 mesi fa era fantascienza pensare di Gian Antonio in sella a una Ducati ufficiale quindi se l'è meritata e onestamente sono molto curioso di vederlo l'anno prossimo in sella a una moto in grado di poter puntare al podio con regolarità perché bisogna essere molto obiettivi la GP23 non vale la GP24 ma se facciamo il confronto tra le GP23 nelle ultime gare la forbice tra Marquez e di Gian Antonio si è ristretta molto rispetto a quella che era all'inizio dell'anno il che vuol dire che DJ è cresciuto tantissimo e questo perché le moto non penso che possano oppure tu dici che due moto clienti in due factory diverse come VR46 e Gresini Team possono avere un'evoluzione uno sviluppo diversa no a quello non credo quindi le moto sono uguali sono i piloti che cambiano sì 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 io credo che DJ stia lavorando molto bene e come hai detto tu da qualche gara a questa parte invece Mark non stia lavorando così tanto bene sta ricominciando a cadere troppo spesso soprattutto venerdì e sabato quando bisogna mettere a posto la moto e questo lo porta sempre a finire per partire indietro e con la GP23 rimonti ma non tanto facile come lo fai con la GP24 assolutamente sì io ti faccio un paragone irreverente con la Formula 1 senza stare a guardare casacche prestigio alle spalle risultati l'alonso di oggi al di là che sia un saggio pilota capace di gestire tutto quello che volete ma per me ha imbroccato iniziato il via del tramonto da quest'altra parte Marquez è uguale al di là del fatto che ha avuto due o tre anni talmente sofferti come vicissitudine fisiche che ti minano in maniera fondamentale fisico ma anche la testa ho la sensazione che quest'anno nell'avere in mano la consapevolezza che di mezzo meccanico lui la parità non l'avrà mai ci si sia inconsciamente un po' seduto sopra cioè se nella prima parte di stagione da un momento all'altro mi aspettavo la vittoria di Marquez io ti dico la verità non me l'aspetto più da qui alla fine dell'anno secondo me vincono gli altri ma guarda seduto no secondo me è esattamente il contrario cioè che a volte lui finisce in terra troppo spesso perché prova ad andare oltre sì per eccesso perché ci prova troppo solo che questo poi gli complica il weekend perché perde minuti importanti di sessione sappiamo che il tempo per mettere a posto la moto è molto ridotto da quando c'è il format della sprint quindi se non sfrutti le prove libere fino in fondo poi la domenica lo paghi tu Claudio la vedi come la vedi come Matteo cioè è un personaggio in difficoltà? è un po' in difficoltà perché lui nei primi gran premi sai era lì vicino sentiva l'odore di vittoria l'annusata e poi negli ultimi gran premi si è allontanato vuoi perché giustamente nelle prove cade questa questa smania di essere sempre là davanti senza curare altri aspetti l'ha portato a fare questi errori dopo parti in difficoltà e vedi che gli altri si allontanano infatti domenica ha detto che si è accontentato per non fare gli errori di un'altra caduta nel passato si che ha fatto anche di recente quindi vi chiedo questo perché nella adottazione in questa come si può dire giostra velocissima che nel mese di giugno ci ha regalato i salti di seggiolino da una parte all'altra ho la sensazione che VR46 anche abbandonando il brand Ducati Pramaca cresca come immagine quindi di conseguenza come comunicazione come appilla anche come marketing nella lotteria in questo momento mi sembra che sia in calo invece il Grigini Team che perde Marquez quindi non ha più il campione storico l'altro è un buon pilota ma non è un campione in questo momento Nadia deve andare alla ricerca di qualcosa che le dia un'immagine un po' più o un giovane Ruki a costa o se no come facciamo Matteo beh loro avranno Aldeguer l'anno prossimo che diciamo è considerato quello più buono tra i piloti della moto 2 della generazione attuale quindi la costa di quest'anno un po' sì diciamo che non è a costa però sicuramente il talento non gli manca ed è un pilota su cui avrei scommesso anch'io quindi secondo me quella è un'ottima presa bisognerà dargli tempo ma potrebbe dare poi soddisfazioni alla squadra Faintina che è brava anche come sempre è stata anche storicamente tutti i ricordi Matteo nella gestione dei giovani come ha fatto con Fenadi con Pagnia Bella con tanti anche piloti che sono partiti lo stesso Bastianini i piloti che sono partiti con Fausto e oggi hanno comunque un panorama importante per quello che è la loro prestazione nella MotoGP siamo ai saluti per quanto concerne Matteo che lasciamo e liberiamo perché sappiamo i suoi impegni di redazione voglio tenermi ancora qualche minuto Claudio con me perché così andiamo a svisare un po' sulla parte anche commerciale del brand Yamaha ma concludo con la situazione Yamaha e Honda che continuano al di là di tutto delle promesse degli impegni degli investimenti a deludere sono scuderie in questo momento retro fanno parte del vintage del team vincenti perché e cosa dobbiamo pensare e aspettarci Matteo da qui alla fin quarta rara era visibilmente deluso a Silverstone perché c'era qualche novità sulla M1 ma non ha portato la crescita sperata tra l'altro ci si è messa di mezzo anche la Dorna adesso a complicargli i piani nella Yamaha perché di fatto gli sta imponendo di andare a prendere Jack Miller nel team Prama che loro non volevano quindi probabilmente la coppia del team Prama sarà Oliveira Miller quando invece accanto a Oliveira la Yamaha e Paolo Campinotti avrebbero voluto un giovane che arrivava dalla moto 2 ma Dorna si è messa di traverso perché sarebbe stato a quel punto o uno spagnolo o un italiano Carmelo e Titellete gli ha detto basta spagnoli basta italiani e non buttatemi fuori un australiano e quindi molto probabilmente andrà a finire così questo per Yamaha Honda ancora peggio Honda non c'erano novità a Silverstone probabilmente arriverà qualcosa in Austria l'unica nota positiva della Honda è che finalmente Luca Marini si è un po' svegliato non è più sempre ultimo si gioca di essere almeno la prima delle onda poi vabbè domenica ha beccato la penalità perché era troppo basso con la prescita della gomma davanti però almeno adesso va come Zarco e come Mir che era quello che almeno ci si aspettava da lui quindi quindi comunque diciamo nelle note stonate così un piccolo raggio di sole almeno per l'italiano Luca Marini non tanto per la squadra per la casa per il brand che sono ancora alla ricerca di vecchi successi e strade importanti tu hai un rapporto anche di amicizia personale con una delle figure di riferimento più importanti in casa Yamaha caro Claudio che novità ci sono cosa sai di quelle novità di cui parlava Matteo ma guarda l'unica novità che so che mi hanno invitato Zeltweb dove sarò presente la settimana prossima esatto proverò di capire qualcosa però va in giro con il logo di Speed mi raccomando fai l'inviato nostro porta informazioni che poi dopo trasmetterai al buon Matteo in maniera da dare una presenza costante e lì c'è tanta tanta così un po' come si può dire un po' un po' amarezza di quello che sta succedendo adesso cioè Quartararo che è un vero campione fra un po' si dimentica di cosa vuol dire correre su una moto vera sì per adesso sta facendo il collaboratore sta provando talmente tante cose che anche lui per me si è un po' perso a provare queste cose perché hanno il tester Crasslow che ha qualche problemi di salute non hanno un vero pilota tester che sviluppa la moto e perciò devono portare tutte le cose in pista mettici Rins che anche lui con i suoi acciacchi non ha partecipato Gardner può portare quello che può portare dalla sua esperienza perciò siamo in serie difficoltà allora Matteo ci sei ancora che andiamo ai saluti allora intanto con te grazie ovviamente tu sarai attentissimo all'Austria noi non ci saremo ma con te ne riparleremo il lunedì il martedì successivo perché noi il 27 torniamo operativi quindi il contatto con te ci sarà immediatamente perché cosa ci sarà dopo l'Austria siamo già al Mugello no ci sarà un'altra gara in mezzo giusto c'è Aragon ecco quindi Spagna e Mugello due gara no misano due gara misano scusami misano due gare a misano per il gioco delle gare annullate se non ho capito male la MotoGP diventa di 20 gare quest'anno e avremo tre gare in Italia di cui due misano giusto esattamente perché la seconda gara di misano che sarà il Gran Premio di Emilia Romagna prende il posto il Gran Premio del Kazakistan perfetto quindi festa San Marino festa in Emilia Romagna tanta attenzione sulle nostre riviere e un circuito bellissimo protagonista per 20 giorni perché siamo sicuri che i tanti piloti manager team faranno feste incrociate per 20 giorni perché è impossibile che misano non viva anche questa situazione siamo nella fase finale dell'estate e praticamente misano mi sembra che ci sia la seconda attorno alla riapertura delle scuole cosa c'è cos'è verso il 20 settembre verso il 17 18 19 la prima l'8 e la seconda il 22 22 quindi voglio dire va a chiudere l'estate 2024 con una grandissima festa sarà bellissimo per i fortunati che ci potranno essere noi saremo molto attenti a documentare grazie anche ai nostri amici che ci seguono e che collaborano con noi e quindi anche quello sarà un appuntamento da non perdere intanto buon lavoro Matteo ti rimaniamo in redazione so che ti aspettano grazie e vi tengo invece ancora ecco si salutano Matteo e Claudio ovviamente e adesso rimaniamo un po' con l'amico Claudio Villa perché ovviamente nel suo ruolo di uomo Yamaha c'è anche intanto il collaboratore con un team che noi seguiamo con affetto con De Angelis e Roccoli sapere cosa stanno facendo come si preparano l'ultima parte dell'anno se hai qualche giovane carino interessante eventualmente da portare cosa invece ha portato l'estate Yamaha come concessionario a moto 2000 in un momento in cui col caldo che c'è una bella passeggiata in moto e quanto di meglio ci si possa regalare caro Claudio a te la palla niente volevo ricordare che sabato e domenica c'è stato il campionato italiano a Misano ok poi se l'hai dimora giusto si era sabato sera hanno fatto la gara in notturna la super sport e la super bike molto belle molto suggestive e il nostro team di Roccoli De Angelis hanno vinto una gara della premoto 3 con un ragazzino giovane è stato molto bello perciò stanno andando con Fimera hanno 13 piloti da gestire in una stagione importante allora così come noi nelle quattro ruote stiamo seguendo con tanto affetto e entusiasmo il bravo Andrea Frassinetti di Faenza trovami un ragazzino di quelli che sta meritando la segnalazione di Alex e Massimo perché magari ce lo porti sentire anche cosa ne pensa un giovane campioncino che corre in moto con che ambizioni si avvicina e cosa si aspetta ci farebbe piacere magari l'organizzi tu invece per le moto da godersi senza la necessità per forza di correre cosa ci racconti l'estate che estate è? beh l'estate abbiamo avuto un mese di giugno non bellissimo come tempo poi luglio si è ripreso agosto il caldo ci persiste perciò sta andando molto bene il mercato tira abbiamo avuto dei segnali positivi sia sul nuovo che sull'usato abbiamo qualche promozione su vari modelli perciò ci aspetto un buon agosto e settembre di positività se al di là del brand perché tu sei una persona intellettualmente trasparente un buon motivo per scegliere Yamaha perché ha un po' di tutto qual è la caratteristica se tu devi dirmi guarda vieni da me perché qualcosa troviamo che ti fa piacere beh Yamaha come Honda sono due brand che ti accompagnano dai 14 anni dal chiamiamoli il cinquantino come una volta anche se adesso sono dico purtroppo ma come via personale opinione elettrici e ti accompagna dai 14 anni fino alla maxi moto e perciò abbiamo una gamma fra scooter e moto ripeto sia Yamaha che Honda molto molteplici quindi più di più di una possibilità c'è maturità c'è maturità nei giovani piloti delle due ruote amatoriali del weekend cioè capiscono il valore il senso del pericolo la preparazione necessaria c'è intelligenza nell'approccio questo manca un po' manca un po' vedo molto meglio che negli ultimi anni sono avvicinate molte molte ragazze le donne sono più più preparate sono anche più competitive esatto è una cosa che proprio lo vediamo da cinque anni e tutte le case stanno facendo dei modelli proprio pensando le donne questo è un indice importante del nuovo mercato che ci aspetta sì anche perché sono moto che avranno come minimo la caratteristica di una maggior leggerezza per ogni motivi quindi anche da vista tecnologico nuove macchine nuove predisposizioni nuove nuovi studi nuove nuove opere da ingegneri quindi non ci si ferma mai non dimentichiamoci che noi viviamo nella realtà della Motor Valley con l'automotiva al centro di tutto quello che è il percorso della meccanica dell'elettronica della gestione che è bellissimo viverlo e anche gli operatori di settore che come te sono da qualche anno sulla breccia continuano a vedere cose che li emozionano sì certamente adesso un'altra novità che stavo dimenticando a settembre andremo a provare la prima Yamaha con il cambio robotizzato hanno messo un cambio con due attuatori con un motorino che spinge sulla frizione uno sul selettore del cambio e sarà proprio completamente elettronico e sarà una cosa che secondo me avvicinerà molto gli utenti dello scooter che hanno un po' paura di prendere la moto per via della frizione cambio della diciamo della complicazione che ci può essere in una moto per me ricenerà molto quel cliente lì quindi allarga il brand dei potenziali diciamo clienti continuativi Claudio sei sempre molto attento questa cosa qui magari la andiamo a riprendere magari perché no la andiamo anche a vedere con la telecamera se capiterà ti aspetto dopo l'Austria quando riprendiamo con Speed per la seconda parte dell'anno ringraziando sempre sia moto 2000 che la TGR che sono nostri sponsor credo ormai da più di dieci anni e questo ci fa molto 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 piacere grazie Claudio un abbraccio buona estate buona ferragosto buonanotte a tutti ciao grazie salutiamo anche Claudio Villa moto 2000 abbiamo già ringraziato Matteo Nugno in San Motorsport nonché Mario Donnini e Andrea Farsineti i protagonisti di questa puntata di martedì 6 agosto sul canale 18 di Incarno TV io ringrazio augurando una buona estate a Cristina e Giorgi Regia con me Incarno TV in tutti i suoi esponenti importanti dall'editoria alla redazione a voi inserzionisti perché senza di voi diventa dura fare la trasmissione bontà bontà vostra chi mi segue da tanti anni con affetto e simpatia alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Clinica Nuova Ricerca Consulta Emporio Gastronomico e Coconuts Erba Vita Gruppo Markar Isol Casa Italia De Pura Laser Soft Lo Zodiaco Lo Zodiaco Frontemare Locatop Misano World Circuit Osteria La Cappannina e La Tramonteria Qui Si Sana Ristorante La Cappa SGR Luce e Gas Rose and Crown La Cappannina La Cappannina La Cappannina La Cappannina La Cappannina La Cappannina La Cappannina